La fase 2 della Puglia comincia già da domani, mercoledì 29 aprile. Ad annunciarlo il presidente della regione Michele Emiliano attraverso l'emanazione di un'ordinanza che regolamenta quello che si potrà fare rispettando la massima sicurezza nei nostri territori. La prima novità riguarda tutti coloro che rientreranno in Puglia da altre regioni. Saranno obbligati a rispettare un periodo di quarantena di 14 giorni, provvedimento che è diretta conseguenza per certi versi del decreto del presidente del Consiglio, con il quale dal prossimo 4 maggio è consentito di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza. La quarantena obbligatoria è una misura di prevenzione, spiega Emiliano, introdotta per la prima volta l'8 marzo scorso, quando fu deciso dal governo che la Lombardia e altre 14 province del nord Italia sarebbero state zona rossa a causa del coronavirus. Decisione che provocò un esodo di massa di decine di migliaia di persone verso le loro regioni di appartenenza. Dal 4 maggio chi rientrerà in Puglia dovrà segnalare il proprio arrivo su un modulo online o al proprio medico di famiglia e osservare 14 giorni di quarantena. Sempre da lunedì prossimo sarà possibile recarsi nelle seconde case sul territorio regionale per attività di manutenzione. Ma già da domani la cosiddetta fase 2 pugliese permetterà la ripresa delle attività di ristorazione con asporto, ma assoluto di vieto di consumazione all'interno e all'esterno del locale, la pesca amatoriale, le attività di manutenzione e riparazione di imbarcazioni da diporto, l'accesso ai cimiteri e l'atto elettatura per animali di compagnia previo appuntamento. Sono invece prorogate le ordinanze relative agli stabilimenti balneari per l'attività di manutenzione, alle attività agricole amatoriali e per le strutture ricettive alle aperto. Si riparte in sicurezza, commenta Emiliano, tenendo a freno l'epidemia da coronavirus, ma modulando a livello locale le rigide restrizioni previste dal nuovo decreto del Presidente del Consiglio.